Skill Vara un altro filone di attività. Abbiamo fatto in questi ultimi tempi alcune riflessioni rispetto al fatto che vorremmo che nelle nostre aule ci fosse una maggior presenza di imprenditori e di quei manager che a volte per questione di tempo sono impossibilitati a frequentare le nostre attività. Allora ci è venuto in mente che forse studiando una nuova formula poteva essere più di appeal perché meno impegnativo una formula 4 più 4. Thing different l'abbiamo chiamato. Che cosa vuol dire? Vuol dire fare in modo che le persone con solo 4 ore quindi generalmente alla mattina possano già iniziare un qualche cosa che noi abbiamo chiamato talk. Talk perché per noi la formazione è un qualche cosa che deve avere anche una parte applicativa quindi la mattinata sarà fatta con l'introduzione di un tema esposto proprio a livello di conversazione come se fosse un salotto quindi una conversazione con imprenditori e manager che si confrontano su temi di attualità. Le altre 4 ore che possono essere lo stesso pomeriggio oppure in un'altra occasione si affronteranno invece dei focus più specifici nel senso che lo stesso tema avrà tutta una parte diciamo di applicazione e quella che potremmo chiamare la nostra vera palestra formativa. In fondo la formazione deve avere questa parte fondamentale perché i concept sono importanti ma è anche molto importante che la persona si misuri con degli strumenti, si alleni personalmente e provi esattamente cosa significa adottare alcune tecniche, alcune metodologie. Ecco che a questo punto abbiamo un po' alleggerito con questa formula quello che è in effetti un impegno che da sempre gli imprenditori e i manager trovano un po' difficile da accettare perché vogliono avere diciamo una formula apprendi tutto e subito. Vi aspettiamo allora il 15 giugno che è il primo appuntamento per l'online world per venire a scoprire il nuovo mondo digital con Paolo Luttero. Vi aspettiamo il 15 alle ore 9. Grazie